Siamo con Sancinito, forse per quello che si è visto in campo un pareggio più giusto? Sì, no, è stata una partita che prima del tempo era un 2-0, poi è stato questo gol fortuito loro e poi siamo riusciti, abbiamo preso due gol incredibili e poi alla fine siamo riusciti a portare a casa la partita con un gran gol di Giglio e merito di tutta questa squadra Ci credete sempre fino alla fine? Sì, sì, come sempre, noi facciamo di meglio che possiamo ogni partita A chi la dedichi questa vittoria? Si, la dedichiamo al mister, sicuramente al mister ha avuto una giornata molto difficile Grazie Prego